C'è una sorta di invocazione al rispetto di questa normativa che è una normativa nazionale e che però è disattesa in qualche maniera in tutta Italia perché effettivamente impedire di bere un bicchiere di birra all'aperto dopo la mezzanotte ci sembra veramente eccessivo. In un paese tra l'altro che svolge la propria attività anche molto fuori dai locali soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, bisogna che ci si renda conto che anche i gestori dei locali hanno la necessità, devono avere in qualche maniera la possibilità sempre nel rispetto anche delle regole di poter consentire alla propria clientela di bere dopo la mezzanotte un bicchiere di birra seduti in un tavolino all'aperto. Ora ci sembra un po' una levata di scudi che parte da una zona che è sotto sorveglianza ormai da tanti anni per una serie di motivazioni che però non può portare ad un rigidimento che arriva quasi a rasentare il proibisionismo. Io credo che noi crediamo che questa situazione vada gestita con il buon senso e con il contributo sia dei gestori che delle forze preposte a far rispettare le normative. Tutto questo nel momento storico in cui dopo due anni di pandemia gli esercenti provano a ripartire? Sì, di fatto in questa situazione si innestano una serie di problematiche. Bene, ha fatto il Comune a prorogare la possibilità di avere tavoli all'esterno anche un po' oltre quelli che erano i canoni degli anni precedenti. Lo ha fatto perché si è reso conto, ci rendiamo conto tutti, che la pandemia ancora non è alle spalle e quindi c'è anche da parte del consumatore una predisposizione a rimanere più all'aperto che non al chiuso.